Il sindaco di Pesaro, Matteo Ricci, non ha usato tanti giri di parole. È stata una giornata storica come storico il protocollo siglato ieri sera che ha messo allo stesso tavolo il primo cittadino, il prefetto Ricciardi, il ministro della difesa Lorenzo Guerini e la direttrice dell'Agenzia del Demanio, Alessandra Dalverme. Il tutto col collegamento in videoconferenza del ministro dell'interno Luciana Lamorgese. Una convergenza nazionale e ministeriale di un impegno su Pesaro che stanzia 15 migliori di euro per risolvere una criticità decennale della città e delle forze dell'ordine. Quello della nuova questura. È stato scelto il sito, ovvero 4.000 metri quadrati della caserma militare Cialdini-Delmonte, lo stanziamento e ora si punta al trasloco entro il 2024 come auspicato dal colpo di Reni impresso dall'Agenzia del Demanio. Noi faremo di tutto per dare questa nuova questura alla città il più presto possibile. Il tema è la difesa del suolo, cioè quanto suolo c'è inutilizzato. Noi abbiamo puntato a questa caserma per far sì che utilizziamo del suolo inutilizzato. E al contempo sviluppiamo la città perché facciamo lavori, facciamo lavori in un'ottica green, sostenibile. Questo è il nostro nuovo motto dell'Agenzia, sostenibilità, innovazione e digitalizzazione. Ricci ha sottolineato come i 15 milioni della questura siano la punta dell'iceberg di una pioggia di 39 milioni e mezzo che stanno arrivando su Pesaro. Il Demanio, voglio ringraziare l'autoressa Dal Verme per questo, investe nella nostra città. 7 milioni e mezzo per Rocca Costanza e l'abbiamo già verificato. Il polo qui per il MEF, per gli uffici del Ministero, Palazzo Ducale, l'ex tendenza di finanza, sono 9 milioni e mezzo, 15 milioni per la questura, più 7 e mezzo di intervento all'interno della caserma per sistemare alcuni beni che invece servono alla caserma militare. Fate la somma, quindi stiamo parlando di una giornata davvero storica per la città e di un impegno mai visto da parte dell'Agenzia del Demanio nella nostra città. La firma del protocollo è stata però preceduta dall'indignazione dei sindacati di polizia per una nuova questura pensata per 4 mila metri quadrati quando, secondo le valutazioni, ne servirebbero 7 mila. La serata ha però lasciato intendere che si sta già lavorando all'ampliamento alla massima petratura possibile. La caserma militare è sempre stata individuata come un luogo ottimale da 30 anni. Sembrava impossibile, adesso che è diventata realtà si vanno a fare le pulci. Fra l'altro il direttore regionale sta lavorando sulla massima superficie possibile, che mi pare siano circa 6 mila metri quadrati, quindi basta polemiche, basta polemiche e per favore evitiamo sempre di fare i piccoli provinciali anche quando otteniamo cose storiche per la nostra città perché sono poche le città in Italia che hanno un investimento del demanio di questo tipo. Il ministro Guerini ha invece sottolineato la trasversalità di benefici dell'operazione. Un protocollo importante per la città, importante anche per la difesa, consente al 28esimo reggimento nel cedere alcune strutture di avere in cambio la riqualificazione di altre strutture che sono utilizzate dal reggimento e credo che sia anche una risposta ad un'esigenza del comune di Pesaro di collocare i locali dalla questura, quindi credo che è un'operazione molto positiva per entrambi. La difesa sta facendo molte di queste operazioni in giro per l'Italia, io ho cercato di promuoverlo, forse anche perché essendo stato sindaco so cosa significa per le comunità locali avere questi spazi che magari non vengono utilizzati del tutto perché sono spazi che sono stati pensati in fasi diverse dall'attuale. Noi abbiamo l'esigenza come difesa di razionalizzare la nostra presenza, qualificandola sempre di più e questo può consentire di mettere a disposizione aree che sono importanti per le comunità locali e il caso di Pesaro è un caso emblematico in questo senso. Dalle firme ora si passerà agli interventi. Entro il 2024 avremo la nuova questura, fasizzeremo l'intervento perché abbiamo più di un intervento qui a Pesaro e nell'insieme noi dovremmo lavorare per quattro anni.